bentornati su my football jersey oggi vediamo alla prima maglia del river plate una ma una squadra dotata di un grandissimo fascino e tradizione in edizione player e la maglia è veramente molto bella nella mia classifica questa prende 4 stelle mi piace tanto anche perché come dicevo la squadra ha una grandissima tradizione il costo lo vedete qui sopra molto basso per una maglia che arriva con degli ottimi tempi questa è arrivata in meno di 20 giorni e con un'ottima qualità vi ricordo di andare qui sotto in descrizione per trovare tutti i riferimenti per ordinare la maglia andate sul sito a vedere quali splendide offerte vi attendono ora prima di lasciarvi la parte finale mi raccomando lasciate un grande like e iscrivetevi al canale a voi non costa nulla ma ci permette di farvi vedere sempre nuove recensioni per oggi è tutto ci vediamo alla prossima io sono alto 1 metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia large della versione player ciao 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 ciao